Diamo il buongiorno a Veronica Gentili, conduttrice, giornalista di Stasera Italia Weekend su Rete4. Buona giornata e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo necessariamente partire da quello che è il tema ormai su tutte le prime pagine di oggi, in realtà con una serie di rivoli, perché parliamo di caso Fedez, certamente, ma il caso vero è il caso Rai, immagino e credo, perché qui il problema è proprio nato da una chiacchierata fatta al telefono e proposta in registrazione in due modalità diverse da Fedez e dalla Rai e poi appunto questa Rai che continua a rimanere fortemente politicizzata. A te. Allora, guarda, secondo me c'è un doppio caso. Un caso è il caso Rai ed è una questione, l'altro è il caso politico e come sempre è molto difficile tenerli separati perché siamo abituati al fatto che quando si parla di Rai e un servizio pubblico che in Italia ha questa caratteristica, si mescola sempre alle vicende della politica. Ora, io credo che quella della Rai sia stata per alcuni versi un enorme gaff, perché poi qui si è parlato di censura, ma bisognerebbe andare ad appurare quanto ci sia di inadeguatezza e quanto ci sia di censura, senza nulla togliere al fatto che quello che è stato in qualche modo rivelato in questa occasione un po' da tutti quanti, quindi il fatto che la partitocrazia la fa da padrona in Rai, è talmente un'evidenza da sempre che insomma non sarebbe uno scoop, ecco diciamo così. In questo caso non si capisce quanto la Rai sia stata più realista del re ed abbia anticipato eventuali polemiche, tra l'altro cadendo in una trappola totale, perché nel momento in cui tu inviti un artista come Fedez, sapendo la figura, il genere di personaggio, puoi aspettarti che accadano delle cose di questo tipo e non c'è probabilmente trappola più grande che non quella di cadere nel dire no, noi non ti facciamo dire quello che tu vorresti, perché se c'è un modo di alimentare polemiche il modo veramente migliore per farlo è questo. Quindi sicuramente c'è questo aspetto qui e c'è una Rai che notoriamente sappiamo essere una Rai con delle problematiche importanti perché è contaminata e in qualche modo vincolata dall'azione politica. Poi l'anomalia è che appunto la presenza dei partiti, questa partitocrazia viene ricordata soltanto quando ci sono degli incidenti strumentalmente per ciascuno da un lato o dall'altro. Poi c'è il tema politico, però vi faccio andare avanti, altrimenti vado io. No, ti volevo chiedere questo, venendo invece a ciò che noi abbiamo visto in tv, quindi prima che scoppiassero tutte le polemiche e concentrandosi sul discorso che ha fatto Fedez, la domanda che ti faccio è, cioè lui ha detto qualcosa di così rivoluzionario, di così coraggioso? In fondo uno può dire che questi sono temi che noi sui social sentiamo ripetere da mesi. No, ma soprattutto mi sembra una domanda intelligente veramente la tua perché ci chiediamo anche quanto ci sia di rivoluzionario in quello che ha detto. Insomma non abbiamo, non ha toccato proprio dei concetti sovversivi e su questo ne conveniamo tutti. Su questo infatti sappiamo e infatti l'assurdo è che questo tema sia un tema attualmente così divisivo che parlarne diventi una provocazione così profonda. Ora io posso dirvi due cose a mio avviso. Uno che è l'elemento più controverso è stato quello del toccare il tè tutta una serie di nomi e di esponenti minori perché comunque parliamo di consiglieri comunali, per lo più regionali qualcuno, della Lega. Quindi figure indubbiamente non apicali e che non rappresentano il centro del ceto politico, però figure indubbiamente imbarazzanti per la stessa Lega per alcuni versi. Quindi questo chiaramente veniva vissuto come un attacco politico. Dall'altra è il clima di unità nazionale che in questo momento non può essere scalfito e rotto. Quindi su questo si è creato il tema, ovvero non a caso poi l'osanna della sinistra a Fedez perché è come se Fedez fosse diventato il testimonial deputato a parlare di tutti quegli argomenti che un tentativo di rimanere insieme in maniera coatta al governo non permette più di affrontare. Io direi che questo è stato un po' il centro e quindi la doppia anomalia è trovare una politica che non ha più voce e che è costretta ad appoggiarsi agli artisti non perché sono un in più dei pensatori, degli intellettuali, ma perché diventano proprio l'unica possibilità, l'unico microfono per portare avanti determinate istanze. Anche se mi sembra di immaginare che il pensiero di Fedez sia davvero il suo, nel senso che non mi pare che sia stato portato a dire queste cose, io penso che sia esattamente quello che penso. Assolutamente, assolutamente, chiaramente il problema infatti è che sono gli altri che si mettono dietro di lui, quindi vai avanti tu che a noi ci viene da ridere. Quindi questo è il tuo pensiero, sappiamo che comunque tutta la comunità artistica sul decreto Zanzi è espressa a favore, lui ha portato il suo punto di vista, quello che ha fatto in più, dietro a cui la sinistra e i Cinque Stelle si sono un po' nascosti è il fatto che abbia fatto anche degli attacchi diretti alla Lega che loro in questo momento non si sentono autorizzati a fare. È chiaro, è così. Grazie a Veronica Gentili, come detto conduttrice di Stasera Italia Weekend su Rete4, ci sentiamo, adesso ci sentiamo spesso, se settimane ci chiamiamo, va bene. Settimanalmente praticamente. Va bene, ormai siamo un appuntamento fisso. Grazie mille. Grazie a voi, buona settimana. Buona settimana, buon lavoro, a prestissimo naturalmente. A prestissimo.